Ho scritto il film La mia vita amore per sempre traendola dalla storia reale di Gianvito Leone, un bitontino 27enne in cui sin da bambino ha vissuto una crisi economica, poi un carattere forte, non dico di più, del padre e poi due delicati interventi al cuore che lo stavano portando a miglior vita come si suol dire. Non vedi l'orologio? Gianvito torna alle 13 da scuola. Una storia di coraggio e riscatto, quella di Gianvito Leone, un ragazzo che grazie alla regista e attrice Roberta Bellini sta riuscendo a realizzare il suo sogno, diventare un attore. Il primo lungometraggio per il 27enne bitontino che su grande schermo interpreta se stesso. Abbiamo incontrato il cast del film che è ancora in fase di lavorazione. L'essere attore non è la prima volta, ho fatto varie comparse ovviamente, poi per quanto riguarda il progetto del film ho avuto sempre, diciamo, delusione nel mondo dello spettacolo. Oggi sono veramente contento di aver conoscito Roberta e sono veramente contento di portare questo progetto insieme con lei, l'hai mai scelto come attore anche se magari come prima esperienza, però sono contentissimo lo stesso. La mia vita, amore per sempre, presto sarà proiettato nelle sale pugliesi, partendo proprio dal cinema Coviello di Bitonto e intanto già affioccano le richieste per il piccolo schermo. Un giorno i nostri figli si andranno via di casa e non verranno più a guardarti in faccia! Basta! Vieni va!